Mentre chiudiamo la settimana di preghiera, teniamo vivo nel cuore il sogno dell'unità di tutti i cristiani. Cosimo signor Luigi Manzi, vescovo di Andrea, nella celebrazione a chiusura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Vediamo. Si conclude la settimana di preghiera, ma mentre chiudiamo la settimana teniamo aperto nel cuore, dobbiamo tenere aperto nel cuore il desiderio, l'anelito, il sogno dell'unità. E che tutti i cristiani perlomeno avvertano nel cuore questo desiderio profondo, il desiderio di vedere che tutti cercano la stessa cosa, cioè che tutti i credenti in Cristo possano unirsi e celebrare insieme i misteri del Signore. La storia purtroppo, nella storia sono accadute tante cose che diventa difficile adesso cancellare con un colpo di spugna. Però se c'è un desiderio sincero di unità, il Signore poi farà il resto con la sua grazia, non abbiamo dubbi. Quando vuole Lui, come vuole Lui, ma lo farà.